Era il primo agosto del 643 d.C. quando furono ritrovate le spoglie all'interno di un faggio secolare di un pellegrino che durante i suoi viaggi decise di fermarsi e vivere sul crinale appenninico a cavallo tra Toscana ed Emilia Romagna. Si trattava forse di un nobile, forse figlio del re di Scozia, ma da quel giorno, per volere popolare, è diventato San Pellegrino, dando così il nome al borgo abitato più in alto dell'Appennino con i suoi 1.524 metri. Per ricordare e celebrare questa festa, al primo agosto arrivano fedeli da tutti e due versanti, Lucca e Modena. Molti di loro giungono a piedi ogni anno molto nutrito il gruppo di Fontana Luccia di Modena, altri anche da Reggio Emilia. Nel monumentale santuario si celebra la solenne messa, celebrata dal vicario generale dell'Arcidiocesi di Lucca, Monsignor Michelangelo Giannotti, con la presenza di molti religiosi provenienti da vari diocesi. All'interno della liturgia i sindaci di Frassinoro e Castiglione Garfagnana si scambiano i ceri in segno di amicizia e di adorazione comune nei confronti dei santi Pellegrino e Bianco. Al termine della cerimonia religiosa viene portata in spalla la nuova croce di Faggio, che andrà a sostituire per un anno intero quella vecchia. Una volta sostituita e dopo essere stata consacrata, i fedeli si accalcano per prendere un pezzo della sua corteccia come protezione nel nome di San Pellegrino. Anche la croce rappresenta un qualcosa di molto importante, in quanto rimarrà su questo molo per tutto l'inverno, fino al 1 agosto del prossimo anno, quasi a proteggere i santi e tutti coloro che hanno a cuore San Pellegrino. Non solo fede, c'è questo legame bellissimo che congiunge due versanti, la Toscana e l'Emilia. E poi c'è questo legame con la natura che è meraviglioso. Io invito a venire qua su, non il giorno della festa soltanto, ma quando non c'è nessuno. E allora si respira proprio quel clima di spiritualità, di quel senso che ti fa scorgare la preghiera. Però ecco, si sente proprio la presenza di questi due personaggi belli, fantasiosi, certo, ma veri, perché uomini che hanno saputo donare la vita al Signore e agli altri ci sono sempre stati, ci sono anche ancora, ci sono ancora. Il problema è che forse non ce ne rendiamo conto e nel mondo vediamo solo i cattivi e soltanto il male. Ecco.